Nella vasta filiera dell'energia elettrica e del gas è facile far confusione tra distributore e società di vendita, detta anche fornitore o gestore. Essi però svolgono ruoli totalmente differenti. Il distributore locale svolge diversi compiti. Trasporta e consegna al cliente finale energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione. È proprietario dei contatori e si occupa della loro lettura. Comunica i consumi rilevati delle letture al fornitore per il calcolo delle bollette. Ogni zona viene gestita da un distributore per energia e da uno per il gas metano, i quali non possono dunque essere scelti dal cliente finale. I distributori locali intervengono in caso di guasti al contatore, per servizi di misura dei consumi o per operazioni tecniche come l'allacciamento. Il cliente può contattare telefonicamente il distributore soltanto in caso di guasti. Per ogni altra operazione sarà direttamente il fornitore a gestire la pratica e comunicare le richieste del cliente al distributore. La società di vendita o fornitore si occupa della vendita dell'energia elettrica e del gas al cliente finale. Se devi stipolare un nuovo contratto di fornitura, effettuare un subentro, una voltura o un cambio fornitore, puoi scegliere liberamente la società di vendita che preferisci. A differenza del distributore di zona, infatti, il cliente può scegliere il proprio fornitore, ovviamente affidandosi a quello con le offerte più convenienti e il servizio più efficiente. Se non sai quale fornitore scegliere e ti serve una mano a confrontare le offerte del mercato, contatta Selectra allo 02-947-55498 per una consulenza gratuita.